Si acquisce la fase emergenziale legata al covid-19 e alcuni comuni tornano ad attivare iniziative di sostegno alla popolazione in un momento di difficoltà per l'aumento dei contagi e le restrizioni per il contenimento del virus. È il caso di Montesano sulla Marcellana dove l'amministrazione comunale ha reso noto che è stato attivato da ieri il servizio della spesa amica. Chiunque rientra tra le attuali tipologie di persone cosiddette fragili in questa fase di covid, si legge nell'avviso, quindi anziani soli, ammalati, diversamente abili, soggetti in quarantena e persone che si trovano in situazioni simili a queste, può rivolgersi al comune di Montesano e richiedere la consegna a casa di prodotti di prima necessità. I numeri di telefono da contattare sono lo 0975 865226 e lo 0975 865221. I volontari della protezione civile o del servizio civile comunale porteranno direttamente a casa degli interessati la spesa alimentare, i farmaci, i beni di prima necessità che verranno richiesti per motivi urgenti. Naturalmente si tratta di un servizio a titolo gratuito. Intanto arrivano anche le buone notizie legate alle guarigioni. Il sindaco Rinaldi ha reso nota nella serata di ieri la negativizzazione di un concittadino risultato positivo nei giorni scorsi. Ciò significa, detto, che il signore è guarito senza aver mostrato sintomi in questi giorni. Auspichiamo presto e serena la guarigione anche per le altre persone risultate affette dal Covid-19. Infine, l'invito ad attenersi alle prescrizioni ben note di contrasto alla diffusione del virus.